Buongiorno, questo è Marano e si dovrebbero rituire le terrazze che percorrono tutta la valle e quindi non ho potuto dire di no quando gli amici di Antica Terra Gentile, soci di Italia, mi hanno chiesto di occuparvi di questa cosa anche perché nel frattempo come comuni stiamo partendo con l'osservatorio e ci stiamo soprattutto occupando dell'agricoltura per queste terrazze che vedete sono terrazze vignate, sono le terrazze della Marona allora nessuno dice che la Marona migliore viene sulle terrazze però tutti hanno dei vignetti in collina di cui si vantano di essere custodi e perché così possono anche dal punto di vista culturale dire che il loro Marone è migliore degli altri oggi assistiamo a una revisione, cioè una ripulitura delle vecchie terrazze perché le aziende più rosse acquistano le campagne abbandonate e fanno un restauro filologico e molto curato di queste terrazze che però sono sempre di poche aziende il problema diverso è quello di sopra di queste terrazze noi viviamo oggi una situazione in cui ormai nell'agricoltura vende solo il Marone Marone, ripasso, maculicella, fate voi perché l'azotecnia, la frutticoltura e poi ci mettiamo anche la lavorazione della pietra e del Marmo il Marmo sta ripartendo, la pietra è ancora terra per cui non c'è nessun'altra attività o aspettiamo che grazie ai cambiamenti climatici dei viti arrivino 1000 metri sul livello del mare oppure dobbiamo fare qualcosa, per cui il tema che stiamo affrontando è la qualità della vita per le aree culinari interazzate perché la qualità della vita poi significa anche qualità del cibo perché il rischio è che questi abbandonino le campagne e tornino solo per il fine settimana o per la bella stagione come seconde case ed è un altro vivere qua c'è naturalmente dal punto di vista sia della storia che dell'utilizzo del territorio c'è un po' di tutto voi qua vedete una bellissima copertina, si chiama nel linguaggio comune per salvare i muri a secco già da decenni si mette un leggero strato di cemento oggi con la chiusura del cementificio il cemento costa di più per cui è una pratica che è tornata costosa ma fino a 7-8 anni fa per queste operazioni il cemento veniva venduto a prezzi all'ingrosso ecco ancora una veduta della campagna in realtà non si tratta di un paesaggio storico, si tratta di un paesaggio di storia contemporanea perché in realtà la policella come tutta la collina veronese era coltivata a cereale narrativo vitato alberato e quindi non è che abbiamo l'attivazione di tornare nella storia però di ricostituire un po' la biodiversità il vigneto io, così dico ai miei amici vignaioli, mi avete fatto delle nostre colline un deserto di vigneti no, loro si arrabbiano però non si capisce più se non nel senso di un rispetto scrupoloso che viene anche richiesto nel disciplinare perché abbiamo eliminato tutte le sequivive, abbiamo eliminato tutte queste cose, gli alberi i ciliegi stanno scomparendo perché il ciliegio non ha più una resa e quindi anche ciliegio di qualità e adesso questa è una valle bianca in questa stagione invece adesso ha ancora qualche marchia bianca allora far capire ai contadini, non sono i contadini ma oggi non sono i contadini, sono vignaioli quindi hanno un diploma, hanno un diploma di qualità, vincono nei concorsi e poi c'è una nuova generazione di contadini giovani, di vignaioli giovani che hanno rinnovato la cantina di famiglia prima la famiglia vendeva l'uva all'ammasso e delle sue aziende, oggi invece si fanno il duro cru e quindi anche la loro linea, è bella da vedere questa, evidentemente però i problemi che ci sono sono quelli di dare senso all'amarone, ecco si vanta che l'amarone sia il vino che ha più interazioni con il territorio, è vero, si vive un po' di inerzia perché in realtà o il territorio si conosce, adesso cito una cosa ma non voglio fare il pessimista qui lì nel mio comune c'è, è stato riscoperto un tempio romano in quel po' di cielo dove si scava si trova Roma Antica e quindi questo tempio romano mi ha chiesto le cantine facciamo un progetto, le cantine di Minerva, il tempio di Minerva e mi date una mano, io finisco i restauri, facciamo un bel richiamo, eccetera di loro non è che abbia avuto questo entusiasmo, il tempio è qua sopra in questo punto qui, aspetta che lo dico, ecco il tempio si trova lì, quindi potrebbe essere per tutti però la cultura arriva sempre dopo, anche perché noi pensiamo che lasciare tutto in mano i privati sia la cosa migliore del mondo in realtà prima che hanno rovinato la bassa La Pulicella non riescono ad avere il coraggio di chiedere il riconoscimento del paesaggio della La Pulicella perché la parte bassa è da buttare però questi che girano solo in macchina, anche i nostri responsabili non sanno che anche nella valle più disastrata quella che ha dato un nome a questo fenomeno quella di Negral, si parla di negralizzazione noi e mia moglie quando andiamo in giro anche con amici siamo sicuri di fare 3-4 ore di percorso a piedi senza accorgerci che c'è che altrove è stato fatto un macella insomma per cui conoscendo il territorio si può dico si arriva sempre dopo su queste questioni della cultura perché la cultura non dà da mangiare ecco vedete questo terrazzamento che è continuo, questo è stato ricostruito il bordo qui si conserva bene perché basta tenerci dei viti queste terrazze sono abbastanza recenti avranno 70-80 anni per cui sono state pensate anche per un certo peso il problema era che noi dobbiamo garantire anche la sicurezza non sempre le terrazze sono che permettono il passaggio delle macchine regole qui vedete che a metà diapositiva ci sono dei cipressini perché uno dei proprietari, questo è un borghese cosa ha detto, non voglio solo vini voglio averci anche un bel dialetto a metà posta per godermi il mio vigneto e quindi ci ha piantato ginestre, rosmarino e olivo e questi cipressi per un motivo estetico bene, dopo di allora altri hanno pensato che non era, che insomma la parte estetica non era se arrivano i clienti americani non si può accoglierli solo in cantina proprio quelli che vedono in vita quindi hanno bisogno anche di fare quattro passi o gli americani o i danesi o gli inglesi hanno bisogno, questa è la diapositiva che abbiamo passato ecco vedete questo tipo di paesaggio allora che cosa facciamo per valorizzare questo territorio? probabilmente bisognerà che ci sia metà bottiglia di Amarone sia fatta di cultura ho chiesto un centesimo, investite in cultura un centesimo per ogni bottiglia e non penso mai che sia, c'è ancora della strada da fare vedete come anche quello che è rimasto delle veri trecchi terrazzamenti è ancora funzionale qui abbiamo uno splendido olivetto che sui terrazze che naturalmente a suo tempo sono state fatte per proteggerci il grano perché la gente non viveva di olivine doveva vivere di grano ecco il nostro prodotto tipo che c'è, non so se sia su una terrazza o no, mi pare di no però questa è la regina della valpicella, l'uva corvina però abbiamo anche i ciliegi e quando dico dico dove mandate i vostri clienti dopo che sono usciti gli avete riempito il bambino di vino non c'è, ma non c'è neanche l'organizzazione non c'è ancora nessuno che abbia pensato a qualcosa ci stiamo muovendo, abbiamo fatto alcuni convegni altri li faremo in preparazione l'idea è quella di allungare la filiera dei produttori e di allargare anche l'area cioè che nelle zone limitrofe non possiamo aspettarsi dagli specialisti della Marone quindi sono monoculturali ma per gli altri ci sia anche qualcosa altro oltre la bottiglia questi sono i vari tipi di strutture a seconda dei materiali eccomi qua grazie a tutti